Oggi facciamo l'acqua profumata all'arancia, riciclando i nostri rifiuti, gli scarti dell'agrume. Mettiamo un litro di acqua in pentola e lasciamo riscaldare. Appena comincia a bollire, aggiungiamo le bucce di un'arancia. O direttamente la polvere di arancia conservata. Chiudiamo con il coperchio e lasciamo aromatizzare per 20 minuti. Scoliamo separando le bucce dall'acqua. Ed ecco fatto, l'acqua aromatizzata è pronta. Se desiderate conservare, basta aggiungere un cucchiaio di sale. Adesso potete profumare i vostri saponi, cosmetica e detersivi fai-da-te. Semplice, no? Vi è piaciuto il video? Lasciate un like, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati. Ciao! Grazie a tutti! Grazie.